Buongiorno ragazzi! Continuiamo a raccontare le civiltà dell'Italia antica. La cultura terra-maricola, la civiltà delle acque, nasce e si sviluppa nella pianura padana tra il 1650 a.C. e il 1150 a.C. Perché si chiama così? I terra-maricoli vivevano sulle rive di laghi e fiumi nella pianura padana, che a quel punto era piena di boschi e paludi. I fiumi spesso straripavano, per questo i terra-maricoli vivevano su palafitte, cioè in case sollevate con dei pali. Il nome terra-mara deriva da terra-marna, termine antico che indica il terriccio fertilizzante, una terra grassa e nerastra formata dalla decomposizione di materiali organici. E cosa facevano? I terra-maricoli praticavano un'agricoltura molto progredita, la caccia, la pesca, l'allevamento e la lavorazione del bronzo. Le terra-mare erano villaggi fortificati dotati di strutture perimetrali, fossato e argini. I terra-maricoli avevano imparato a costruire canali sia per scopo difensivo, sia per l'irrigazione dei campi. I campi erano molto fertili grazie al fango che il fiume Po e i suoi affluenti depositavano. Ma c'è un aspetto della loro produzione ancor più importante a livello storico. Quale? Durante la media età del bronzo, 1500 a.C. circa, l'artigianato metallurgico raggiunse in Italia livelli di produttività senza precedenti, sia nel campo degli oggetti d'uso quotidiano che in quello di armi e ornamenti. Ciò accade in concomitanza proprio con il fiorire della civiltà delle terra-mare, in pianura padana. Un reperto importante è uno stampo, cioè la forma di fusione in pietra arenaria per asce e scalpelli rinvenuto nella terra-mara di Gorzano nel Modenese. Questo manufatto rappresenta una delle testimonianze più antiche di produzione in serie, nel senso moderno del termine, il che ci conferma la forte domanda di oggetti. Con una sola colata di bronzo fuso, infatti, usando gli stampi, si potevano ottenere più utensili, tutti della stessa forma, che poi venivano sottoposti ad una sequenza di operazioni di rifinitura. Erano davvero ben organizzati questi terra-maricoli? Eh sì! E nonostante lo stacco storico di alcuni secoli, le popolazioni terra-maricole sono probabilmente imparentate con i successivi villanoviani, e quindi con gli etruschi, che vedremo in seguito. La tecnica nel trattare le acque di scolo, la presenza di argini, canalizzazioni e fognature nelle città etrusche non poteva essere originata se non dai terra-maricoli, che da sempre ebbero a che fare con tali opere. Il collegamento tra terra-maricoli e villanoviani si riscontra invece prevalentemente nella pratica di incinerazione dei defunti, ovvero quella pratica funeraria che riduce in cenere le salme tramite il fuoco. Chi erano questi villanoviani? I villanoviani diedero vita ad una delle più fiorenti civiltà dell'Italia settentrionale, tra Toscana, Emilia-Romagna, Lazio settentrionale e in alcune aree della pianura padana. Il loro nome deriva dalla località di Villanova, nei pressi di Bologna, dove sono stati ritrovati resti di villaggi ed una necropoli. Una delle principali caratteristiche della civiltà villanoviana riguarda l'uso di conservare le ceneri dei defunti in vasi di argilla a forma di due porzioni di cono, coperte da una ciotola o da un elmo. Il corredo funerario era formato da bracciali, collane, fibbie, armi ed utensili. Questo dimostra che presso tutte queste popolazioni l'artigianato era molto diffuso. E come vivevano? La società villanoviana era inizialmente poco differenziata dal punto di vista sociale ed era dedita all'agricoltura intensiva e all'allevamento. Progressivamente le attività artigianali specializzate, soprattutto la metallurgia e la produzione ceramica, generarono ricchezza e favorirono l'emergere di una casta di aristocratici che controllava anche i rapporti commerciali. Come erano le loro case? Le comunità villanoviane vivevano in villaggi di capanne raggruppate in piccoli nuclei con aree di uso comune. Le abitazioni erano realizzate con una struttura portante in legno, pareti in incannucciato rifinito in argilla e tetto di canne intrecciate su travi inclinate. Al centro era situato un focolare, come confermano i resti ritrovati di carbone, il cui fumo defluiva da un abbaino sul tetto. Nel pavimento di terra abbattuta poteva essere scavata una buca per alloggiare un dolio, cioè un grande vaso di ceramica fatto a globo, utilizzato per immagazzinare scorte alimentari come cereali e legumi tostati ed essiccati. Sulla base della diffusione nello stesso territorio sul quale si svilupperà poi la civiltà etrusca, alcuni aspetti della cultura villanoviana sono stati riconosciuti come una fase iniziale di questa. E la nostra storia continua. Alla prossima ragazzi!